Benvenuti alla seconda puntata di Antenna Sport Il podcast della Fenice, nel senso che rinasce Rinasce sempre, dalle ceneri di podcast antichi, questo podcast non muore mai Non muore mai, questa è la seconda puntata, la prima della storia al venerdì Perché quest'anno la variazione è che per tenerlo vivo dobbiamo incrociare i calendari E non si può sempre lunedì col commento post, ma col venerdì, cioè col commento che ci Col commento pre Mamma mia, e quindi se volete sapere ogni volta quando esce la prossima puntata di Antenna Sport Seguite Antenna Sport sui social, iscrivetevi al canale YouTube Seguite Luca Ravenna Goll e San Daniele Tinti E basta, finita la promozione Andiamo con i titoli E molto molto altro Parleremo anche di motori Ovviamente non possiamo, cioè è venerdì, non possiamo non aprire, non parlando di uno dei momenti più importanti dello sport E la storia di questo paese, cioè quanto paghi di tasse tu rispetto a Yannick Sinner Rispetto a Yannick Sinner? Comunque di più Eh sì Yannick, dove scappi? No, allora, la polemica Ti immagini che prende la residenza tipo in provincia di Siracusa Così lui mette tutti i soldi e dice Ma i servizi? Che arriva dall'alto adige Oh, ma quello dei Kings of Convenience ci sta tanto bene? Eh, tra l'altro Possesserebbe un bel guizzo Dove ha la residenza quello dei Kings of Convenience? Prende casa Ortigia, anche lui Che il primo circolo tennistico ce l'ha Tipo, deve farsi un bel 40 minuti a piedi No, 10 minuti a piedi, prende una macchina e andare poi a giocare La cosa di Monte Carlo che leggeva in un bellissimo pezzo dell'ultimo uomo È che molti grandi tennisti fra i primi 30 del mondo vivono lì perché Giustamente Undici mesi all'anno sono fuori dal paese Sì, comunque non vivi in nessun posto perché viaggi sempre Paghi le tasse sui premi che vinci nel paese in cui hai vinto Giustamente E invece sui contratti Ovviamente, ecco, lì a Monte Carlo Diciamo, giustifichi il caffè a 4 euro e mezzo Perché le tasse, diciamo Sono diverse da quelle italiane Poi, tra l'altro, Yannick Sinner che è altoatesino Quindi in caso, con la sua residenza in Alto Adige What happens in Alto Adige, stesi in Alto Adige Secondo te in famiglia non ho mai fatto battute Sul fatto che Ma quanto sarebbe stato più bello vincere per l'Austria E poi una nonna che fa dei saluti un po' strani No, secondo me no No, scherzo, Yannick sei una persona stupenda Però la polemica su Yannick che è alla residenza a Monte Carlo Veramente non ci sta per niente Allora, c'è il tennista italiano più forte di sempre Un ragazzo di 22 anni E noi la prima cosa che facciamo gli rompiamo i coglioni Perché Per due motivi Perché non vive in Italia Essenzialmente questo, come tutti i tennisti del mondo E poi perché ha deciso di non andare, pare A Sanremo Quello è il duro motivo Sì Lì è proprio Lei sa maestà Non è andata a Sanremo Ma sai perché Per essere così forte ti devi allenare E ogni tanto ti devi riposare Io ero fierissimo Quando ha detto No, ma mi devo allenare Non posso andare a Sanremo A prendere l'applauso Cioè Martina Catuzzi Ha fatto una gag Ha scritto una cosa bellissima A una nostra collega Ha detto Lui va lì e fa la sua gag E Amadeus si prende il momento per dire Ma tutti dicono che non è veramente italiano Yannick è italianissimo Perché gli fanno tipo mangiare la pasta Gli mettono la lupara in mano Tipici momenti Cosi da italiani Le fanno mangiare una carota Mamma mia Yannick Stai lontano Stai lontano Ha fatto dei bundabas I carota boys I rap I cimi di rap boys E a parte questa polemica Ripetiamo Dove l'hai visto domenica? Io ho visto i primi due set Io ho visto gli altri tre Hai visto quelli buoni Io ho visto quelli cattivi C'era la sensazione No, c'era la sensazione I primi due set Come ha detto Yannick Non ho mai visto la palla Effettivamente Stavo là a dire Beh, Medvedev tirava Negli ultimi tre centimetri del campo L'ha fatto per un'ora e un quarto Poi la stanchezza arrivata È stupenda Nel momento in cui Yannick Dice quasi alla telecamera Sono morto Non ce la faccio più Invece Consigliatissimo articolo Di Emanuele Atturo Che descrive la partita Sempre sull'ultimo uomo Lui veramente È una penna Di un livello sublime C'è un bellissimo meme E un uomo stupendo Tra l'altro C'è un bellissimo meme Sull'ultimo uomo Su Emanuele Atturo Che tipo Quando scrive gli articoli È tipo La racchetta La racchetta si muove Il polso di Sinner Si tende come La corda dell'arco di Ulisse E poi invece Nella riserva è tutto Fenomeno blef Fenomeno blef Fenomeno blef Fenomeno blef Un saluto a tutti gli amici L'ultimo uomo Ha scritto un pezzo stupendo L'ha potuto scrivere Perché Sinner Ha vinto una partita Come la vincono gli dei 3-2 in rimonte In Australia Primo italiano Ha vinto uno slam Dopo 47 anni Tu dove eri 47 anni fa Quando Panatta L'uomo forse più bello D'Italia Vinceva Roland Garros 47 anni fa Ero a meno 14 Dal nascere Anch'io ero a meno 11 E' bellissimo Bellissimissimo Tutto bellissimo L'ho vista in Olanda Tutta la partita Con un pregevole commento Di una giornalista olandese Su Eurosport Olanda Non parlava mai Solo ogni tanto C'è un disturbo Nel segnale Dall'altro emisfero Persone così belle Così in forma Dotate Forse la lingua Più fastidiosa d'Europa Forse il fiammingo È peggio Però siamo lì Non ti saprei distinguere Il fiammingo Se lo sentissi In una stanza Veramente fastidioso Grandissima vittoria Uno di quei momenti Per cui ti ricordi Doveri Quando l'hai visto Altri secondo me sono Rosolino Sidney 2000 Quando ha vinto la medaglia Nei 200 misti Mi pare L'oro E Vabbè Tomba in generale Più o meno te lo ricordi Io mi ricordo da piccolo Un po' di robe E poi vabbè Nazionale Grazie Nazionale te la ricordi Te la ricordi sempre Troppo bello Bellissimo Uno dei momenti Insomma Veramente commovente No e poi adesso È incredibile pensare Che Attenzione Però non vorrei mai Non vorrei che rischiasse Che sembra che noi diciamo È bello avere la residenza In un altro paese E non pagare le tasse No È strano Che esistano dei posti Dove Pagare le tasse All'interno dell'Europa È strano È strano che esistano Tutte qua No però pure la Fiat Paga le tasse Non si può dire No certo che si deve dire Nel senso che Quando si attacca uno È quella la cosa Adesso pare che Yannick Sinner Sta a fare sta cosa No è un sistema Che prevede Che le persone Con tanti soldi Possano andare A pagare le tasse Altrove Il grande Aldo Cazzullo Che fece questa polemica A tempo fa Ora l'ha riportata fuori Un giornalista Anche del Corriere Cioè del Corriere Io lo so perché Gli tira il culo Perché lui Come noi paghiamo Le tasse in Italia E quindi I nervi saltano Poi se hai famiglia Quando arriva Quando è il momento Dell'IVA Stai là e fai Oppa Yannick ma Non c'è un condominio A Monte Carlo Che mi affitteresti Sei mesi Un giorno l'anno Eh sì Quando fai l'anticipo Sull'anno dopo Quello è il momento Ma chi è il genio Che ha creato Che ha avuto Questo guizzo Cioè tu hai già pagato In più Su quello che hai pagato Per l'anno dopo Mi dai già un'idea E poi ci mettiamo D'accordo Non c'è È sempre ragione Lo Stato Però è giusto Pagare l'Italia Soprattutto quando I servizi che ti Tornano indietro Tipo Roma Attenzione però Adesso che il Giubileo 2025 sono pagati Con i soldi Del tour di Luca Con le tasse Del tour di Luca Ci fanno una stazionata Intorno a Piazza Dei Cinquecento Grazie Luca Per non far entrare Senza tetto Questa stazionata È stata pagata Con i soldi del tour Di Luca Ravenna E tutti i poveri Senza tetto Infreddoliti Però non gli mettiamo In bagli scaldotti No no Bellissimo Bellissima idea Ma io non l'ho chiesto Scusate Pensavo ad altri servizi Io non ho niente Contro queste persone Grazie Luca Red Sox Abbiamo chiuso Abbiamo chiuso l'acqua Dynasonic Con delle pinze comprate Con le tasse del tour Vabbè ragazzi Vabbè Questo è stato un grande momento Poi durante la settimana Vabbè Sì È successo ieri È una cosa enorme Di cui non me ne frega un cazzo Però è comunque una cosa enorme Hamilton Hamilton Annunciato in Ferrari Dal 2025 Mossa Tipicamente alla Elkan Cioè prendiamo Il più forte Che ci sia Cristiano Sì Ci sono fatti parallelismi Cristiano Ronaldo Alla Juve Hamilton in Ferrari Questo è un po' di più Di Cristiano Ronaldo Alla Juve Perché la Ferrari È la Ferrari Hamilton Cioè nel senso È proprio una cosa Non c'è niente di più Niente di più grande Niente di più bello È la Ferrari Nel mondo dei motori Penso nel mondo Come brand Credo che Ferrari Sia il brand Numero uno Come riconoscibilità Sì In assoluto Cioè se tu vedi Ne parlavamo con Mattia Che salutiamo Se vedi il rosso Un cavallino È difficile Esatto E un tipo a Monte Carlo Che scende E dando le chiavi Dice Sai che non pago le tasse Quanti anni avrà Hamilton Nel L'anno nuovo Tra sbagliarmi Credo 84 Vediamo subito Credo sia del 84 Sì quindi comunque sia Non proprio di primissimo pelo Ricordiamo uno dei Sette mondiali Uno dei più forti piloti Della storia Uno dei tre Quattro piloti Più forti della storia Vogliamo dire Shumisen Lui è dell'85 Lui è dell'85 Quindi ha già 39 anni Quindi arriva a 40 anni In Ferrari Sì A fare la chioccia La chioccia di Leclerc La chioccia Hamilton mi sa che la chioccia Non la sa Poi la chioccia Quando vai a 340 all'ora Non la puoi fare Che chioccia è? Comunque lo vuoi superare L'altro E in Olanda C'è solo Peroni sponsor del Bari Oltre che di questo podcast E forse non c'è sponsor più bello a Bari Che tu possa avere No esatto E anche per noi Perché comunque sia Peroni per noi Questo era un loro vecchio slogan Peroni per voi Esatto Peroni per tutti Ma mai più di due di fila Mai più di due di fila Oppure quella da 66 La stappi e la condividi Esatto Bravo Questa cosa di Hamilton Alla Ferrari Comunque sia Intrigante Io non sono Un grandissimo appassionato Di Formula 1 Però A parte che ho incontrato Giorgio Greco A Genova Sì anche mi ha mandato Parlate di motori Parlate di motori Ecco qua Lui però Più moto Lui moto Giorisce più le moto Però Hamilton in Ferrari È una roba che comunque Anche se non si è postato Nella Formula 1 Ci farai caso Chissà cosa avrebbe detto Il grande Enzo Ferrari Noto fascista Del fatto di avere La prima guida di colore Nella sua macchina Nella storia del cavallino Sì Però sai che c'è Vale sempre il suo discorso Secondo me Enzo Ferrari Più di tutto Gli piaceva vincere E sono quelle storture Del razzismo Di superficie O forse è il vero essere Eh sì Perché proprio lo metti al suo posto Il pilota Se è pilota va bene Se no non va bene Certo Quella è proprio Racism 1.0 E poi qui ho questo titolo Che è Si avvicina Si avvicina Inter Juventus Italian Derby Sei teso? Sì Certo Assolutamente sì Andrai allo stadio di San Siro Vado in curva Stadio Meazza in San Siro Vado in curva Perché ho una carriera E vorrei continuare a averla Quindi E quindi quello che dici Alla Juventus Resta nella curva nord Dello stadio Meazza in San Siro Oh devi essere più rispettoso Dall'avversario Luca devi rispettare Con te non stiamo Uno schiavo Luca devi cantare Ma solo cori comunque Di vicinanza Siamo tutti nord italiani Tutti 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 Milano Torino Due amici Due fratelli Il mito è il mio cocktail preferito Non c'è differenza Fra il politecnico E il polito Cioè per me Sono la stessa cosa Più c'è scambio Meglio Hai capito Quando è che aprono una Holden Anche a Milano Aspettiamo Genova Per ricreare il triangolo Il grande triangolo industriale Genova è rimasto un po' indietro Nel punto economico Ma li aspettiamo Ragazzi Facciamolo sto triangolare Forza Juve Siamo fratelli Così con i tifosi misti Tipo Napoli Scambio di bandiere Noi tutti bianconeri Loro tutti nero azzurri Che bello è Tifare per le due squadre Più tifate d'Italia E per la gente Aspetta Non tocchiamo No scherzo Per la gente Tifa come noi Inter e Juve È bello se anche pareggiate Ci vogliamo No c'è un clima infernale Perché come ha detto mio frate L'altro giorno fa E hanno creato un clima infernale Siamo veramente La reincarnazione di Craxi Hanno creato un clima infernale Sta parlando di se stessi Di noi Sì Di noi E ovviamente Sì Partita che Sì forse Possiamo permetterci di dire Che è abbastanza decisiva Ovviamente L'Inter ha battuto La Fiorentina A Firenze Perché Nico Gonzalez Ha deciso di tirare un rigore Se tiri il rigore Così a calcio a cinque Gli amici Gli amici ti fanno Dai scusa Ma che cazzo stai combinando Ma perché Ma perché Dai vabbè Fa niente E invece a Nico Gonzalez I tifosi della Fiorentina Gli hanno fatto notare Che Beh l'ha proprio passata Piano piano Senza fare la finta Cioè ha fatto il saltino E poi l'ha accompagnata in porta Sì non è un bel Mi sa che impazzisci parecchio Sulla Gaza C'era un'intervista a Pagliuca Che credo sia Il più grande pararigori Di tutti i tempi in Italia Che diceva Il titolo era Meglio tirare una secca Tipo Tira una bomba Un bel consiglio A servire più grande Pararigori della storia d'Italia Per dirti il consiglio Che ti insegnano A scuola C'era una bomba centrale Non la prende mai Comunque I tifosi della Viola Si possono consolare Perché Che credo sia Il Gallo Come l'hai presa? Allora male Perché il Gallo Non lo so Sono molto legato Al Gallo Belotti Ma perché? Perché mi piace No ma al di là del fantacalcio Che comunque Non è che mi abbia premiato La scelta del Gallo Però mi piace Andrea Belotti Con così la bandiera Del Torino Che a un certo punto Smette di segnare Campione d'Europa Con la nazionale Ricordiamo che il Cairo Ai tempi chiese tipo 80 milioni di euro E poi questa difficoltà Di sto ragazzo italiano A segnare Quindi il fatto che Fosse alla Roma Poi era proprio capito Stavo allo stadio Si vedeva il Gallo Che si alza dalla panchina Io faccio a tutti gli amici Oggi il Gallo canta Ha cantato pochissime volte Spero per lui Che canterà a Firenze Anche perché a questo punto Il fantacalcio Spero che Che si rialzi Per un Gallo Che parte dalla mia fantasquata Arriva C'è un Baldanzi Che arriva Perché io già avevo Baldanzi all'Empoli Adesso quindi ho Questo lupacchiotto Fresco fresco Ha fatto Beh è un bel giocatorino Lui è un bel giocatorino Quest'anno si è fatto male parecchio Però sì In prospettiva È un bel giocatorino Adesso lui verrà accolto Secondo me Con l'entusiasmo pacato Tipico della tifoseria Giallorossa E poi Beh allo stadium La messa Mamma mia Ha fatto un bellissimo gol Sì Veramente un bel gol Io l'avevo messo in panchina Perché non pensavo Che l'Empoli Sarebbe andato a fare gol Allo stadium Tra l'altro pareggio Che vi è servito A tornare Siete primieri Siete primieri Con una partita in meno Come si suol dire Sì Però appunto Adesso dobbiamo giocare Questo scontro Sobrio E pacato A San Siro Vediamo Vediamo un po' Come andrà E no no Baldanzi bellissimo gol Rasoterrone Rasoterrone Farida Rasoterra Molto da lontano Questo rasoterrone Luca Adesso che stiamo facendo Un podcast Che si sente in tutta Italia Noi mi intendevo Un gran rasoterra Sì sì Bellissimo gol Senti Questo derby d'Italia Che comunque È la partita Di cartello Come lo vedete Voi che non Voi tifosi di squadra Che non sono le Non sono l'Inter e Juve Ma intanto Quest'anno Come partita decisiva Ma ti poterai vedere Con gli amici O sti cazzi No mi sa che Non me la posso vedere E quindi Non la vedrò Guardo il risultato E dirò Ah vedi 4 a 4 Lo potevo vedere Sai cosa cosa non succede Si gioca tipo Manchester City Liverpool Cioè quei risultati Sì 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 Una partita aperta Di due squadre Che si sfidano A viso aperto Purtroppo Tutti i derby in Italia Non sono così Brutto Brutto fallo di uno Che però scende Dalla mano L'arbitro che invita Esatto Andrà proprio così E poi il momento fair play Quando si rialza l'avversario Tutto lo stadio che applaude Tutto lo stadio si ferma Al dodicesimo minuto Per farsi un applauso In quanto tifosi È il dodicesimo uomo Tutti i giocatori Che applaudono gli spalti Momento bellissimo Foto di Agnelli Foto di Prisco Questo è il derby d'Italia Questo è il derby d'Italia No Sai È una partita È una partita interessante Da vedere Bella da vedere Ce n'è uno che ricordi Particolarmente Che dice Ah mi ricordo Quell'Inter Quello Juve-Inter Ti dico io Perché poi sono romanista E quindi guardo tutti Con la lente del romanismo L'unica volta In cui Dovetti Simpatizzare Per la Juventus Credo fosse 2008-2009 Ah ok Scusa O anche prima Vabbè Quando la Roma Inseguiva L'Inter La Juve Era appena risalita Da dove? Era appena risalita Nel cuore italiano No era appena risalita Dalla B Non mi ricordo In che anno era Quando Burdiso La spizza all'indietro La palla arriva A Treseguet Che la butta dentro 2-1 2007-2008 Sì era Quegli anni Parma-Inter E Catania Lo scudetto Lo scudetto Lo vinse Comunque L'Inter Però quello Me lo ricordo bene Ero a Venezia Con degli amici Per Pasqua Per le vacanze di Pasqua E abbiamo detto Oh Venezia Bellissima E poi però Quel giorno C'era il Super Slam Sunday Per cui ci siamo chiusi In un pub C'era tipo Manchester United Liverpool Chelsea Non so cosa Poi c'era tipo Un Empoli Roma E la sera prima Inter-Juve Oh Venezia Meravigliosa La serenissima Ragazzi entrate pure Vedetevele tutte Ma ve lo dico L'alcol non c'è oggi Sì sì Mi dai un ginger No bella Bella Vediamo Non lo so Non so che dire E per te qual è un Inter-Juve Non ce n'è Perché io Allo stadio Ho vista Una di vittoria Credo E È una Partita in cui Non hai mai Quasi record positivo Anche giocando in casa Ne abbiamo tipo Tre partite di vantaggio Di vittoria A Milano Non è mai divertente Con la Juve Stai male durante la partita E ti esce proprio Una brutta cosa Sì ti esce sempre Un po' di cattiveria Mentre Di amaro con la Juve Perché pensi Chissà adesso Che combinano Che comunque è un pensiero Che Però adesso siamo noi Che stiamo combinando Formuli da bambino E poi non se ne va più via Sì Stiamo noi Combinando noi Disastro Quindi no C'è proprio Ecco L'arbitro maresca La mattina Quando si sveglia Sarà tipo come noi Quando facciamo lo spettacolo Sì Un po' di tensione Un po' di ansia Sì Uguale Sarà lo stesso piacere Per lui Un po' di tensioncina Sì diciamo Noi quando facciamo lo spettacolo C'è tutto un pubblico davanti Che è totalmente La nostra parte Ha pagato un biglietto Per venirci a vedere Quindi in teoria Sono ben disposti E puoi anche dirgli Non mi ricordo le cose E la gente ti applaude E ti fa piacere Lui c'è gente Che ha comprato il biglietto Solo per dirgli Che deve morire Ma ti immagini essere il padre Cioè comunque Il tuo figlio ti dice Voglio fare l'arbitro E tu dici Beh che figata Sei libero Di scegliere quello che vuoi Però tu sai che Il tuo cognome Da lì in poi Ci saranno Dalle 70 Alle 15.000 persone Che ogni weekend O ogni due Ti insultano Dicendo il tuo cognome È la cosa peggiore È strano Quando viene detto Il tuo cognome Agli altoparlanti Esploderanno Fischi di odio Questo se fai carriera Quindi dopo che prendi Gli schiaffi In terza categoria Gli schiaffi in seconda Gli schiaffi in prima E con gli schiaffi Intendo proprio I ceffoni in faccia E anche quando ti accordi Comunque sul risultato Perché qualsiasi arbitro Delle categorie inferiori Ogni tanto Arrivano i due presidenti E fanno X E io che ho detto Y Andiamo E allora Bisogna trovare l'incognita Allora X uguale E quanto è bella Quanto deve essere strano Quella cosa Per cui magari Il terzino scarpara Stiamo parlando di eccellenza Roba così Per errore La spazza Un cross Parte un aquilone Si picca sotto la traversa Silenzio Silenzio totale 3-22 in campo In panchina Un gol che non puoi annullare Perché non è Cioè proprio non è accaduto Niente di irregolare E tu Da lì parti Con 1-0 Per la Sanca Il cazzo cosa E hai gli ultimi due minuti Devi far segnare gli altri E però tu sei l'arci Tu non puoi farli segnare E perché poi Non tutti i giocatori Sanno che quella partita Deve finire X Quindi c'è gente Che interviene In scivolata Per fermare Oh vai ragazzi Lo portiamo a casa Sti tre punti E c'è l'allenatore E cominci a fare un po' di cambi A tossire forte E poi comunque Se la prendono con te Cioè non è Comunque sei tu Che sbaglia il tuo arbitro Quindi giubbotte Nello spogliatoio Giubbotte Nel camioncino Che ti riporta Verso il treno regionale Dove troverai i tifosi Ad aspettarti Che bello Ti ho mai raccontato Di un amico Che faceva MMA A livello Marvin Vettori Esatto Il mio carissimo amico A livello competitivo Non altissimo E negli sport di combattimento Capita frequentemente Che ti dicano Secondo round Vai giù Solo che lui era forte E l'avversario Che doveva vincere Era meno forte Quindi comunque Devi fare un po' la recita Perché è uno sport di combattimento Lui a un certo punto Però la recita No gli dà un calcio Questo Dice un calcio tranquillo Questo non si protegge Boom Li dà una stincata in tempia Questo comincia a barcollare Allora lui Si aggrappa e fa No 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 Stai con me Stai con me La finta lotta E fa No 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 Stai Stai Dammi 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 Stai Stava Stava perdendo la facoltà Di dire una serie di consonanti Intanto Letteralmente Sai quando balli Il weekend col morto Come si chiama No 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 Quell'arbitro Che gli ha alzato il braccio Lui Dammi 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 Non si pare Di dare una stincata in testa O lì sono sport in cui secondo te non ci sono queste Cioè secondo me in tutti gli sport a vari livelli questa cosa avviene C'è anche nel golf può succedere Che ci si accorda Hop questo drive Poi nel golf è facilissimo sbagliare Ah sta un colpo Golf, tennis ovviamente ci sono Tennis facilissimo Sì Qual è il tipo? Ci saranno Tutti quelli in cui si può scommettere E sai cosa? Si può scommettere Su tutto Su tutto Quindi non me ne viene in mente uno Forse la formula 1 Però in realtà lì ci sono gli accorpi Però Cioè lì si fai passare avanti la prima guida Perché gli servono i punti per vincere il mondiale Non c'è Ah sì Boh Sai dove non succede? No sai dove succede? Sarà incredibile se succederà Al Super Bowl Perché adesso c'è il Super Bowl Lì non può succedere Eh però Troppi soldi in ballo 100% succede Che secondo te un giocatore con i debiti Dice oh quella Dei fare un fanball Ah dice Scommettono se fatti Che non so più di due prese Sì una cosa così Farà fumble Secondo me sì Oh gli cade L'evento più seguito In tv in America Sai che stanno scommettendo ora in America Sul fatto che Travis Kelsey Certo Il tight end Dei cose Dei Il boyfriend Di Taylor Swift Se stanno scommettendo Se a fine partita Ah ho visto Ho sentito Ho sentito Perché mi sono informato Si inginoccherà E dirà Black Lives Matter Se fa la proposta a Taylor Swift Allora io credo di no Perché Un minimo di Magari Uno straccio di dignità Hai letto di quanto Pare che Quanto lei abbia portato In soldi In giro d'affare a Kansas Sentivo che ci saranno 5 milioni di spettatori In più Perché C'è questa Ship Tra Taylor Swift E Travis Kelsey E Travis Kelsey Che tra l'altro Ho cominciato a seguire Perché Lui e il suo fratello Jason Hanno un podcast E che a me ogni tanto Mi appare E mi sparo delle clip E lui Cioè lui Lei ha portato Pare un giro di soldi Per i Kansas City Chiefs Di 300 milioni di dollari Fra Merce Per quella che è già La squadra più forte Della Lega Quella che è il giocatore Più forte del mondo Che è Patrick Moms Che ha fatto 4 Super Bowl In 5 anni Di carriera In 6 anni Ha giocato sempre La finale Della conference E questo è il suo Quarto Super Bowl Che va a giocare Non male Ha perso solo Contro Tom Brady Due volte E contro il mio Joe Burrow Che quest'anno Purtroppo si è sbriciolato E non ce l'ha fatta A portare I suoi Bengals E il mio Tom Brady Quindi io Io tifo per quelli Che battono Moms Quindi io sono più forte Di Moms Certo Bravissimo E io invece tifo Per Pat Moms Perché Per non saperne leggere Ne scrivere Qual è il soprannome Del quarterback Di San Francisco Breck Purdy Il soprannome Mr. Irrelevant Mr. Irrelevant Perché fu l'ultimo Dell'ultimo giro Ad essere scelto E lui ha tipo Un contratto Prende Essendo rookie Ancora contratto rookie E al secondo anno In NFL Tipo 800.000 dollari All'anno Via le tasse 450 Rimangono E lui praticamente Quando è in off season Va a vivere dai suoi Perché non ha i soldi Per il rent A San Francisco E hanno fatto un GoFundMe A San Francisco Per pagargli La casa Un affitto Un flat Sì San Francisco Spietata Questo dà l'idea Della crisi vera Che c'è Un paese di malati E gli hanno preso Un appartamento Di fianco a Yannick Sin Era a Monte Carlo Così 800.000 Sono tutti 800.000 A fine anno No Gli hanno preso questa cosa Però lui adesso Che è al suo Secondo Super Bowl È il primo Super Bowl È il secondo anno Era Sì 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 Scusami È il primo anno È il secondo anno Il primo Super Bowl Fenomeno totale C'avrà un contrattino Con qualche brand Cioè lo stipendio 800.000 Ma sarà arrivata Non credo Un Under Armour Di merda L'anno prossimo La Yoma Che gli dà le scarpe Da calcetto La Valsport Se giochi con queste Ti diamo 3-4.000 euro Per il Super Bowl Penso per l'anno prossimo Cioè se vince L'anno prossimo Il contratto è mega su Se non vince Comunque sale E Boh Una cosa assurda Secondo te Travis Fa la proposta A Taylor No Se Se vincono Allora se perdono Non la può fare Per come sono fatti Gli Stati Uniti Ci vorrebbe qua Francesco Costa Spiegarcelo Sì Avrebbe Forse sì Avrebbe senso Certo Perché fai il momento Più importante Della storia Della televisione americana Sì E vendi lo spot Dopo a una cifra Però tu devi dire Che lo stai per fare Devono accordarsi A questo punto Devi andare all in Sui soldi e tutto Stiamo parlando Così Non sei più un essere umano Sei Però L'America è il paese De Kardashian De Kanye West Cioè questo tipo Di modo Di stare al mondo Esiste Poi posso dire Un'altra cosa Da loro esiste Stanno insieme Da troppo poco Io adesso faccio un po' Ma sono americani La ragazza Della questione Ma ancora non sanno Se sono quelli giusti L'uno per l'altra Poi tra l'altro Una bellissima storia Perché Travis Il giocatore di football Che si sposa Però Se poi le cose vanno male È lui che cucca i soldoni Perché Taylor C'ha una quantità di soldi Che Travis Non la vede manco col binocchio Hanno provato a fare già le canzoni con intelligenza artificiale di lei che racconta che pensava fossero in red zone Invece erano solo a 10 yards E invece era a fur down Fur down concussion E robe varie Lui se la lascia male Non è un uomo morto Perché comunque è una bestia di 100 erotti chili alto 2 metri Però i suoi social Poi il podcast con Jason I commenti sotto cominciano a diventare peperini Perché gli swifties non te la fanno passare Deve fare la ferragnata Cioè mi fa un check Molto preciso Adesso i post di Chiarafragna hanno 30-50 commenti Diciamo che sono selezionatissimi E lasciati Penso che è quella cosa che solo i tuoi amici commentano E anche gli amici dicono I bambini Perché non lo dai Ma Chiara è per ridere È una battuta No guarda non hai capito È successo un casino Abbiamo fatto degli errori No non so Hai vinto il Super Bowl Metti che lo perde Però si è accordato per chiedere Quella la cosa Cosa fai? Se lo perdi Che vai e fai là Tutto Buu Caglione Dove si gioca? A Las Vegas Quindi Mamma mia Anche questo mette On top Al check Però poi dopo Cosa si fa? Cioè Non so Mi sembra disumana veramente No infatti secondo me non lo farà Ma perché dovrebbe farlo? Cioè Io che seguo il podcast Dei fratelli Kelsey Non lo fa Non lo fa Mi sembrano degli esseri umani Poi secondo me fidanzarsi con te Tu ok sei un personaggio pubblico Lui che è Tide End Tide End È l'uomo che ha fatto più ricezione Nella storia della post season Di tutti i tempi Ha battuto Jerry Rice Ha battuto Jerry Rice Abbastanza incredibile Quindi fortissimo C'è un seguito gigantesco Però fidanzarsi con Taylor Swift Già deve essere una rottura di cazzo Fotonica Che non vanno a mangiare da Papa John's Pizza da soli Mamma mia che incubo essere con Taylor Swift Ma invece come donna proprio No ma sono d'accordo Come donna non lo so Penso sia squisita Però per il livello di attenzione mediatica Che c'è su di te È insopportabile Lei ha un concerto a Tokyo È sì il giorno prima E poi le mettono Su un jet Che apprende Si mangia due livelli di atmosfera della Terra Cioè può darsi che la prossima cometa Colpisca il Canada Perché Taylor Swift deve Arrivare allo Sì si fa tipo Piega due Cioè come cazzo si chiamano Due fuse rari Ieri succhia Sì 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 Devo mettere Un wormhole Tipo Interstellar Che l'ha messo Non lo sappiamo Ma vogliono dirci qualcosa Shake it off Shake it off E deve arrivare a Las Vegas E stanno tutte le fan Stanno capendo come Facendo il calcolo Dall'aeroporto Col jet privato Diciamo che il suo pilota Immagino siano più di uno Che gestisce i suoi jet Jet privati È l'Hamilton dei jet privati Chi lo fa l'Alftime Show? Non me lo ricordo Assolutamente Vedo una foto di Asher Mamma mia Quindi immagino sia proprio Asher Che quando farà Yeah 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 Farà venire giù lo stadio Chi è secondo te La superstar italiana Che in Italia Al pari Taylor Swift Potrebbe creare questo effetto Fidanzandosi con un campione E quale campione In Italia? Vabbè Elodie 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 È lei È lei È la nostra Queen at the moment Con immobile Perché Sarebbe il numero di gol In Serie A No 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 Serve Chi è il giocatore italiano Un immobile Che tira Che tira di più In questo momento Che i giocatori italiani Non ci sono Chi è la superstar Della nazionale? Non c'è una superstar Donna Rum No Non mi viene in mente Proprio La superstar Se Elodie si mettesse Col mister Spalletti Forse verrebbe giù tutto No ma la nazionale italiana Non c'ha Non c'ha una superstar No siamo tutti Siamo un gruppo E quella è la nostra forza La nostra forza E quindi vedi Noi abbiamo la pop star Ma non abbiamo Non abbiamo la star di riferimento Eh Se Elodie si mettesse Con Yannick Sinner Ma speriamo Mamma mia All'internazionale di Roma Yannick vince E poi pop A Sanremo Che lei sta cantando Lui la interrompe Vestito da carota Hop Apre E c'è questo anello Questo rubino Slavato Che è diventato Una piccola carota Con uno smeraldo sopra Glielo dà Bellissimo Secondo me Yannick Tutta sta cosa Le carote Gli ha rotto il cazzo Da tre anni Si è rotto i coglioni Finalmente in Australia Invece gli australianopoli Hanno invitato i carota boys Tra l'altro Domani c'è La prima partita Delle sei nazioni Nel rugby I tifosi spesso Si vestono in modo Diciamo Più divertito E divertente Ha visto più legionari Il sei nazioni Del Colosseo Dei Galli Sì esatto Sono i gladiatori Chiedo scusa A questa città straordinaria Però ecco Al mondiale di rugby Ci si veste un po' così A volte le partite La nazionale Ci si può vestire Un po' da matti Alle partite La squadra di club Non vai vestito Da biscione Simpatico Di Milano Oppure Da lupacchiotto Si hai Più di sei anni No c'è Ci sono le rispettive Voi ce l'avete La mascotte Non ce l'avete voi Noi abbiamo Romolo La nostra mascotte No è un conto segreto In Cina Non ce l'avete uno Vestito a biscione Che si muove strisciando Che proprio E non sai che divertimento Quando arriva la mascotte Del Milan Che richiamano il diavolo Da sette parti Si evoca Mephisto Il maligno Eccomi E arriva Galliani E arriva Galliani No No Non ce l'abbiamo Non abbiamo Non viene liberato Un cobra In mezzo al campo Come la Lazio Libera un'aquila La reale Peccato che non liberate E noi liberiamo Dei lupi Eh Vero peccato A Napoli Si liberano gli asini A Torino le zebre A Torino Un toro Un toro Un toro Meraviglioso No Noi però abbiamo Una mascotta A forma di lupo Che è Romolo Romolo Si l'ho visto Che spara Pum Si si spara le magliette Io spero sempre Che la spari Che arrivi Beh comunque No che finisca Tipo come la puntata Dei Simpson Che prende No Spoiler alert Che prende La moglie Di Ned Flanders Maud Flanders Che cade E ci lascia E va in paradiso Perché se c'è una Che è andata in paradiso Quella era Maud Flanders Comunque speriamo Che Yannick Sinner Faccia la proposta A Elodie Non credo si conoscano Però mai dire mai L'amore non conosce Ospiti ad Antenna Sport Yannick Sinner E Elodie Ma come vi siete conosciuti Siamo riusciti A tenere nascosta La storia Ma siamo andati A Sobosca A Sobosca Non so manco pronunciarlo E non so se ne parli così Però c'è un accento romano C'è abbastanza L'accento romano Però parla italiano Con l'accento Romano E l'altro giorno Adesso poi Ti chiederei Anzi ti chiedo Anche se ti giuro È la cosa di cui Mi frega di meno Da quando seguo Lo sport nella mia vita L'All-Star Game Guarda Non mi interessa Neanche a me Però hanno rimesso Est e Ovest Almeno Una cosa vecchia stile Sono uscite oggi Sono uscite oggi le panchine Sono uscite A Pensa Ti dico che Visto che registriamo La mattina presto Neanche ho visto Le panchine C'è Steph Curry Che ero preoccupato È a Ovest In panchina Perché non è nei titolari C'è Hawaii Ma Tatum C'è nei titolari A Est Penso proprio di sì Do per scontato Che ci sia Considerato che è il giocatore Più forte Della squadra più forte Esatto Però veramente Ecco È proprio quel momento Questo è quel momento In America In cui Super Bowl E All-Star Game Sì Sono due Sono due momenti diversi Anche se poi Viste le votazioni Non puoi mai sapere Chi sarà il titolare Però mi sembra difficile Che a Est Qualcuno Si sia preso Una posizione Di Jason Tatum Mi sembra Molto molto difficile Vuoi sapere qualcosa Sull'NBA In realtà Adesso siamo Nella terra di nessuno Da dopo L'All-Star Game È quando La regola season Diventa veramente Importante I Lakers Ti dico solo Questa cosa Sui Lakers Continuano a galleggiare In un clima Di mediocrità Stanno a 25 vinte 25 perse Perfetto Point 500 Dopo aver vinto La Coppa Italia Porcata La Team Cup Di novembre Ho visto una foto Di Lebron James Che a inizio stagione Ha i capelli neri La barba nera Adesso è bianco Sì È dura Essere il giocatore Più forte A quest'età Di tutti i tempi Non c'è nessuno Che sia sempre avvicinato Galleggi In una cosa Che per i Lakers È mediocrità Poi ecco Invece Gli Utah Jazz Che stanno là Gli Utah Jazz Dei Fontecchio Per loro È una bella stagione Stare in range Per il play Internamente Si tifa Gli Utah Jazz Come pazzi Perché c'è Fontecchio Giusto Ma non sarebbe forse Il caso Come è in NFL Di inventarsi qualcosa Di diverso Per questo All Star Game Cioè delle prove Le fanno Sì lo so C'è lo skill game C'è per tutti Ci si diverte un pomeriggio Si sorseggia una birra Senza giocare una partita Oppure una partita Un altro sport A calcetto Flag football E quello lo fanno Nel football Gioca una flag football Che tra l'altro Sarà sport Olimpico Pensa che piacere Giocare contro La nazionale americana Che manda i giocatori Della NFL Dicevo ma questi Scusate Commissione Olimpica Ma loro C'avevano lo scooter Sai qual è la cosa Di cui mi frega meno Nel mondo dello sport Rispetto all'All Star Game Dimmi tutto Il calciomercato Di gennaio Veramente Perché non fai Il fantacalcio Esatto Infatti ti chiedo È successo qualcosa Di incredibile Nel tuo fantacalcio A parte Baldanzi Nel mio fantacalcio Guarda L'asta Ce l'ho dopo domani pomeriggio C'ho un paio Di mosse Che vorrei provare a fare Dice lei Nel anteprima Non posso Non posso Perché Anche i muri Hanno le orecchie No però Questo Belotti La Fiorentina In realtà Per il fantacalcio Potrebbe essere Una cosa positiva Perché la Roma Adesso Praticamente Neanche giocava più La Fiorentina Nel ruolo di centravanti C'è un problema Quindi speriamo Che il Gallo Risorga Ecco Ci tenevo a dire Anzi La persona con cui Ho scambiato Osimen E Pasalic Per Belotti E Buonaventura Ci teneva a dire Di a quelli del podcast Che comunque Io la giornata dopo Ho schierato Petagna Raspadori In attacco Perché comunque Osimen ancora Non ce l'ho Quindi pare che Però lui è tipo In lotta per il primo posto Io ho il peggior punteggio Quest'anno Veramente Non mi salva nessuno Sono Come si chiamava Il sottomarino Che è andato a vedere Il Titanic Il Titan Il Titan Ecco Sono sul Titan Si sentono i primi No Stanno chiudendo Stanno chiudendo la bottola Ci vediamo dopo ragazzi Buon divertimento E No Adesso ti dico Questi nomi Di questo momento Del calciomercato E mi fai un commento E io ti dico Quali ho sentito nominare Almeno una volta nella vita Beh questo di sicuro sì Era Un'ala del grande Grande Milan Post Il Milan del presidente cinese Niang Che va all'Empoli Ah Veramente Gratis per sei mesi Si rinnova A certe condizioni Lui doveva essere forte Lui doveva essere un leao Preleao È vero Doveva essere quella roba là E poi Vediamo se all'Empoli Farà quello che non ha mai fatto Nella sua carriera Ma questo è Angelino Alla Roma Angeligno Angeligno scusami Si è preso il numero 69 E quindi purtroppo Per me è già finita È già finita la magia È già finita la magia Però Fa troppo ridere Gli adulti Che dice Mi prende il numero 69 Dichiarazione di intenti Molto molto chiaro Magari è l'anno di nascita Di un parente A lui caro Uno zio Anche il 69 È nato qualcuno Però Mi sembra più probabile Che Angeligno Abbia scelto il 69 Per un Per un atto sessuale Scomodissimo Per celebrare Lo scudetto della Fiorentina Nel 69 Potrei sbagliarmi Guarda Sei tu molto più esperto Demba Sec Al Frosinone Dal Torino Fuggendo Dalla procura di Torino Forse davvero Prestito secco Per colui Che l'anno scorso Eliminò il Milan Dalla Coppa Italia Demba Sec Ti ricorda qualcuno? Demba Sec Demba Sec È un bellissimo nome Per uno Che fa Sì MMA Ma Canta Ha anche la carriera Parallela Da rapper Vero È anche un bellissimo nome Per qualcuno Che vende motori In Star Wars Dobbiamo andare da Demba Sec Ma Demba Sec È uno stronzo Demba Sec Sta a Frosinone Esatto Esattamente così Senti Mi vuoi dire altri nomi Che non ho mai sentito L'ultimo Questo per dare L'idea del livello Della serie Goscari Goscari Goglicize Goglicize All'Empoli Dalla Torpedo Curtaisi 450.000 euro È il titolo definitivo L'Empoli On fire On fire This girl is on fire Beh Contentissimo per l'Empoli Non si può non simpatizzare Io odio Sì Lo so Mi ricordo Ricordiamo però L'insulto più grande Che Luca Non siete neanche provincia Non siete nemmeno provincia Merde No Merde Mai detto Non siete neanche provincia Perché eravamo sotto 2-0 Quando ci stavamo giocando Lo scudetto col Milan Che poi abbiamo perso E che il Milan ha Meritatamente vinto Senti Posso parlare un attimo Della Coppa d'Africa Perché Agli ottavi di finale Hai visto qualcosa Io sì Un po' di livelli Io ho visto solo Che nella partita di cartello Capoverde-Mauritania I ragazzi Hanno segnato All'ottantottesimo E quindi Capoverde Ai quarti di finale Io ho già detto Che simpatizzo Capoverde Perché mia cugina E i nipoti Vivono lì E quindi Signori Si ti fa Capoverde Come pazzi Secondo me Hai visto il gol? No Come era? Non ho visto il gol Ho visto il gol Di altre partite Il calcio è molto diverso Da come lo intendiamo Con questa tattica Che è una rottura di coglioni Che Secondo me la Coppa d'Africa È stradivertente Si diverte Non è che si diverte Gioca Sono un po' più Liberi dagli schemi Sì Non è l'europeo Tra l'altro L'europeo Che a volte è una merda Perché poi Dici il grande calcio europeo Vede le partite oscene In Coppa d'Africa Ragazzi Si gioca Poi ovviamente A volte ci sono dei buchi Di robe assurde Beh ci sono Le squadre Che non sono Non sono strepitose Però c'è la Nigeria Che invece è fortissima Che passano anche loro Grazie a una doppietta di Lukman Io ovviamente simpatizzo Perché voglio che Osimène Resti in Africa Il più possibile Per bilanciare Il dramma Del mio scambio Per Mimmo Berardi Però Adesso c'è Diciamolo DR Congo Che sembra il nome Vabbè La Repubblica Democratica del Congo Contro la Guinea Nigeria contro l'Angola Mali contro Costa d'Avorio E Capoverde Contro Sudafrica Ragazzi Si tifa Capoverde Come pazzi Contro anche Sudafrica Ma certo Ma io non conosco nessuno Di Sudafricano Mia cugina vive a Capoverde Che cazzo mi frega Del Sudafrica Le merde L'Apartheid Non c'entrano niente Non credo Quelli che giocano Secondo me Non c'entrano Non c'entrano Se non Che i loro genitori C'entravano Con la parte Sì I loro genitori Erano la parte Offesa Nell'incidente Quando hanno fatto il CID Erano quelli che hanno detto Ma è lei che mi è venuto addosso Signor Conquistatore Bianco E Beh sì Vediamo questa Coppa d'Africa Dove andrà a finire Lutto In tante città d'Italia Perché Il Marocco È stato eliminato Per l'appunto Dal Sudafrica E la comunità Marocchina È una delle Comunità più grandi D'Italia E quindi chiaramente Ci dispiace Perché noi simpatizziamo Anche per Per i ragazzi Per tutti i ragazzi Che popolano Questo straordinario Paese Ti farò Questa domanda Questo podcast Si chiama Antenna Sport Anche come omaggio Ai grandi Teghe Ai grandi Alle grandi Trasmissioni Inutili Che abbiamo visto Nella nostra vita 5-6 uomini Tendenzialmente Sovrappeso Con problemi Di ogni tipo Problemi a casa Problemi sul lavoro Che ti fanno Per una squadra Vengono invitati In uno studio Con le telecamere fisse Non c'è la regia Sono proprio fisse Vuoi sapere Il mio momento preferito Boa 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 Io volevo chiederti Se noi diventassimo ospiti Di uno di quei programmi Quale dovrebbe essere Il tuo tormentone Questa è una domanda Difficilissima Questa è bella Difficilissima E soprattutto Oltre al tormentone Il tuo oggetto La tua cosa Perché vedo che ogni volta Questi per farsi notare Si mettono la retina in testa C'erano delle cose Sui occhiali Fuori Comunque c'hai 60 anni Un minimo di dignità Hai preso la maturità Col 60 Cioè c'erano i sessantesimi Datti una dignità Però la perdono Perché lo sport È bello Il tifo Ti fa perdere Io ho visto Che andrei a fare Il tifoso romanista Vorrei solo Le orecchie da lupo Cioè il cerchietto Con le orecchie da lupo Che poi il cerchietto Quando sei pelato È meraviglioso E tipo Quando la Roma fa gol Faccio solo Nun te fan canta Perché apro con Nun Che mi fa ridere Nun Faccio solo Nun te fan canta Attenzione Andiamo subito Da Daniele Tienti Nun te fan canta Perché Nun È anche un po' nullato Nun te fan canta Ti usano anche Perché a volte Poi questi testimoniali Usano per i mini spot Che mettono dentro Certo E cosa vorresti sponsorire Le cialde di caffè Nun te fan canta L'ho vista l'altro giorno E puoi vincere Una delle sedici macchine In offerta ogni mese Esatto E poi se ne usi abbastanza Nel mare dove vai a fare il bagno Con i tuoi figli Si crea una montagna Di cialde di caffè Possono tuffarsi da lì È come uno scoglio nuovo Dentro ci vanno i polipi È bellissimo Molti muoiono Ma quelli che ce la fanno Ho cerchiato che cosa Molto spesso mettono Il dolce vita Quelli che vanno lì Metti il dolce vita O metti No il dolce vita Io no perché Quelle giacche incredibili Devo lasciare Lugo la libera Per fare Nun te fan canta Bello bello Molto bello E tu come ti Ho messo solo La biscia che striscia Ehi Ensegna l'intre E tu le resi La biscia che striscia La biscia che striscia Forse ragazzi Eh Farei sì sì Solo queste Questa la biscia Bello No Non saprei Non saprei cosa fare Forse io Ulule 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 Non lo so neanche dire Andiamo Un ulule Però un ululato realistico Ulule Ulule me lo sono chiesto l'altro giorno ne ho visto 5 minuti su, non mi ricordo forse era qui studio, voi stanno sono fuse, varie reti hanno fatto venire la storia di questo paese Paramount e Warner che si uniscono, Antenna 3, Tele Lombardia mi colpivano gli spot perché gli spot nelle tv regionali in giro per l'Italia dicono molto di più su quella regione di quanto possa fare chiunque scriva sui giornali perché è quello che la gente vuole a Milano, in Lombardia gli spot, Milano e Lombardia lo ricordo gli spot erano tutti, ma tutti uno in fila all'altro sul recupero crediti e darti una mano quando sei in difficoltà vedete queste, girati ovviamente sempre con gusto della tv provinciale un tipo, una tipa che fa oh no, mannaggia, hai dei problemi di soldi hai problemi, schiocco di dita e arriva questo tipo che fa risolviamo noi oppure la signora nello studio, mancava solo l'andrangheta e la camorra facciamo noi come si faccia i soppi a Milano siamo di casa Milano sempre Lombardia hai fatto bene a precisarlo perché si potrebbe confondere con Milano Marittima l'altra Milano l'altra Milano quasi un testa a testa per qual è la migliore Milano d'Italia sicuramente Milano Marittima perché Milano è undicesima nella classifica mondiale delle città più inquinate quello è amaro siamo undicesimi quello è brutto io a Milano ieri effettivamente sono uscito e volevo fumare un sigaretto ho detto no, ho già fumato posso tornare a casa sì, Milano anche Torino Torino pure è ancora più su a Torino è l'unica città in Italia dove mi è capitato due volte di stare in giro e vedere l'aria cioè vedi l'aria la vedi in tutta la pianura padana comunque tra l'altro la terra penso più fertile sbaglierò sicuramente correggetemi d'Europa credo e c'è una coltre nera di inquinamento di inquinamento quello è amaro perché è una cosa che non è Milano non ci sono più gli odori tu non senti l'odore delle foglie bagnate in un parco niente ha più odore cioè solo smog solo smog che peccato che peccato è andata così è andata così siamo undicesimi le prime dieci sono tipo capitale Bangladesh Cinquecina la carta questi posti qua che hanno anche una densità abitativa un po' diversa da quella milanese sì e no è che girando per la città dici ma dove cazzo stiamo andando cioè è finita così l'importante è comunque Inter Juventus poi si vedrà poi si vedrà con una bella maschera la sciarpa davanti al naso per non far entrare le particelle nei polmoni ma è il momento della mia domanda preferita l'anno scorso in tutti gli allenatori qui te lo chiedevo è l'All Star Game è l'NBA questo è l'unico motivo per cui mi interessa Daniele Tinti viene invitato in prima fila con le superstar mondiali di musica cinema come vai vestito fashion All Star Game allora scarpa nera un po' tecnica quindi Salomon Columbia Columbia per la precisione questa qui calzettone spurio cioè destra in un modo sinistro in un altro colorato che si vede e non si vede faccio che fa molto caldo mi sa lo Star Game tengono bello caldo sì giusto però uno bello elegante che mi fa mi lascia respirare ma sono tranquillo che non scende giù con colori diversi colorati che è l'unica cosa di libertà che mi concedo oltre alle mutande boxer larghi comodi colorati pantalone questo non facile jeans no ti dico pantalone cargo nero questo ho scoperto il cargo t-shirt chiara felpa no perché felpa nera felpa grigiona cappellino che però dico dai sto nel America mi metto il cappellino con un brand americano oppure di una delle due squadre se simpatizzo per una delle due squadre allo Star Game allo Star Game quindi c'ho Est Est sì Est e poi al massimo sopra la felpa se mi sono bevuto due cose prima mi compro una maglia da mettermi sopra di chi? eh quello Fontecchio bellissimo a questo punto bellissimo la maglia di Fontecchio no guarda ti dico forse che però salterebbe tutto una bella maglia di Luca Doncic no pensavo della Roma eh quello non male mi presento con la maglia dell'Aquila Rugby tu e Kim Kardashian con la maglia di statuto del 97-98 io vado con Emily Emrata con quella dell'Inter che aveva non so in che cazzo di video l'altro giorno seguo le robe tipo sui giornali esce Emily Rattelkowski come cazzo si pronuncia mette la maglia dell'Inter l'ha fatto con la maglia della Roma il web impazzisce è uno dei titoli forse più divertenti che ci sia in assoluto il web perde il controllo lo fece con la maglia della Roma le avevano regalato una maglia della Roma però col 10 quindi il commento era tipo guarda il 10 è di Totti sinceramente Emily cercati un altro numero anche lei l'ha fatto io mi sapevo Kim Kardashian prima ancora Emily Rattelkowski parliamo di secondo me almeno 5 anni fa e recentemente mi sono rivisto su Netflix I'm Telling You For The Last Time vecchio special di Jerry Seinfeld oltre a essere perfetto Jerry Seinfeld è un comico americano è un comico americano stesso nome della nota serie perché è la stessa persona esatto in prima fila c'è uno con la maglia dell'Inter quando lui entra sta così non so che hall di New York grazie grazie in prima fila c'è uno con la maglia dell'Inter Pirelli vecchia penso fine anni 90 e sta là guarda forse è arrivato il momento che te lo dica ero io 99 maglia di branca che non capiva una parola non è l'Inter questo ma non è doppiato come quando lo fanno vedere alla televisione e poi allora ancora ci stiamo no basta siamo siamo in diritto arrivo comincia il 6 nazioni domani un consiglio seguite sui social Luca Ravennagole San Daniele Tinti perché potrebbero esserci degli aggiornamenti direttamente dallo stadio Luca gioca estremo occhio a quando si canta l'inno occhio perché verso l'arbi estremo con il numero 15 15 e ala con il 14 potreste trovare due podcast la telecamera che fa così poi si abbassa e ci siamo noi vabbè in realtà Angie Capozzo non è altissimo è solo è un bel fascio di muscoli però sì sì è bello oh ma io la mattina sto facendo un po' gli eserciziati di quelli che vedo su Instagram secondo me secondo me si nota sei nazioni 25 al settantesimo per gli ultimi dieci minuti tutto sprint entra col numero a me piace vederti estremo che prendi e devi calciare col cazzo metto giù il ginocchio non è come nel football che metti giù il ginocchio è il mark solo se la prendi dentro i 22 non è che ovunque metti giù il ginocchio e ti arriva una terza boom Luca Ravenna ha detto the mark ti spezza in due rimangono le gambe così e il torso 15 metri più in l'arco che ancora tiene la palla per non fare in avanti the marker ovunque era in campo boom veniva ucciso detto l'uomo della resa alla Badoglio obbedisco no perché non era Badoglio ho fatto una gaff sulla storia italiana proprio di dire ho mischiato Badoglio e Garibaldi Badoglio dice obbedisco a chi non ha mai detto obbedisco Badoglio non ha mai obbedito a nessuno supercaglio non fotti con Peter Badoglio vabbè vediamo se tagliarlo tanto l'ignoranza è nostra non certo in uno sport supremo come rugby io domani vedrò la mia prima partita di rugby dal vivo è bello perché poi ci andiamo a vedere l'Inghilterra pronostico diciamo difficile per i ragazzi però 100% ci sentiamo gli inglesi che fanno swing low sweet chariot che è un bel momento purtroppo lo fanno di solito quando i ragazzi inglesi vanno 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 ma noi noi staremo lì attenti precisi e a un certo punto come è sempre il piacere di bere una birra con un inglese è che a un certo punto pensi di parlare bene come lui quindi gli spieghi come gli spieghi guarda actually maximum two esatto or we can share one is it real? you only have two? you gotta learn from me questo però è più scozzese e la tua scozza è il 9 marzo 9? sì giorno di fondazione di non ricordo quale squadra che gioca il derby d'Italia proprio domenica quale delle due? la nostra noi siamo nati il 9 marzo sulle porte della primavera sulle porte appena prima quando finisce l'inverno inizia la gioia la festa della certo e nati sulle porte della primavera forse lo slogan campagna abbonamento dell'anno prossimo FC internazionale nati sulle porte della primavera con tippete che esce da bambi ma io ti fai inter io vado in curva nord con la zampetta con la zampetta contro i pannelli dietro si toglie la cinghia ci siamo in chiusura senti non ci sono state ancora ci sono dei riferimenti alla Cina che stiamo tenendo segreti per chi ci sta seguendo solo da quest'anno non ci sono stati particolari momenti di non mi sembra momenti di gli ultimi che ricordi così a occhio è un classico è uno dei suoi migliori amici consigli con la Juve tirano e gol quindi lì forse si è fatta una chiamata ma perché consigli c'ha l'anzianità per sapere quando deve essere gol e quando non deve essere gol perché quando vuole è un portiere straordinario però oramai consigli c'ha un po' di anni sì lui è un grande appassionato di MMA veramente? sì ma invece ti chiedo questa cosa il portiere del Turati del Ferrosinone è apertamente interista si chiama come la via dove stava la sede del Biscione ne parla su Gazzetta non sei proprio tifoso cioè vai in cuore è un grande perché io tifo Inter è un grande se ti fassi il cosinone il fastidio degli altri tifosi secondo te ti conviene dirlo apertamente perché ti fii mentre stai giocando? secondo me non conviene perché perché i tifosi delle altre squadre ti dicono ah i tifosi delle altre squadre e anche poi quando fai il giorno che sei un portiere il giorno che fai una papera contro l'Inter veramente te lo fanno ma lo sono chiesto perché ovviamente ti fii la stessa squadra il Joe sono un grande però esistono anche gli altri tifosi capisco che no tu puoi farlo se poi contro la tua squadra come giusto che sia overperform cioè la questione di massimo tifo e rispetto io gioco contro la mia squadra del cuore gioco come un pazzo come fece storari contro la Roma mortacci sua che diceva io alla Roma pure gratis perso lo scudetto grazie no l'ho detto perché mi sono chiesto vedi consigli non l'ha mai detto che ti fai Juve oppure sono anni che prende missili da tutte le parti comunque era un po' di tempo fa questa cazzata ah no il pendolino dobbiamo fare il petto del record tu credevi al momento pendolino il momento più importante d'Italia cioè la chiaroveggenza pura andate a rivederlo sicuramente mi sbaglio 1998 il famoso Juve Inter di Giuliano e Ronaldo Mosca disse che avrebbe segnato Simeone diceva tipo 2-1 per l'Inter e mi ricordo avevo 10 anni e ho detto se l'ha detto il Maurizio posso stare tranquillo papà non l'avete andiamo in pizzeria andiamo in pizzeria Maurizio ha detto che la mette la mette Simeone la mette il ciolo papà papà andiamo fuori a parlare io e te è una cosa che non succede mai che pendolino dobbiamo fare la prediction sul derby d'Italia no è impossibile a parte che ricordiamo le prediction non si fanno mai sulle proprie squadre non saprei come dirlo perché me l'ha suggerita mio padre ma mi fa molto ridere come battuta lui l'avrebbe saputo dire Monte Carlo si prende i tennisti per la questione fiscale casinò di campione cioè campione d'Italia ha perso il casinò è tornato però è di nuovo aperto e punta a quelli del padel appunto si prende i padelisti i padelisti ah è tornato? ho visto da come ti è saltato l'occhio no mi sa che ha riaperto ascoltai un podcast quest'estate e mi sa che i giudici hanno detto no ok potete riaprire perché lo chiuse un giudice perché c'erano due conti fuori posto che podcast era? era il noi giocatori da zara molto interessante perché diceva come è possibile che un casino fallisca se il banco vince sempre e c'è la storia del casino diciamo che campione d'Italia vive del casino di campione d'Italia e quindi chiudere il casino è stato come se chiudesse il ministero non erano pronti e allora quest'ultimo gancio che ti faccio a proposito di campione d'Italia Antonio Conte al Milan pare se ne stia parlando sì ma guarda per ora io la considero una voce finché non ci va certo se vincesse il tricolore pure col Milan ci sono altri allenatori che hanno mai fatto vinto lo scudetto con la Juve con l'Inter e col Milan o giocatori che hanno vinto lo scudetto con Juve Inter e Milan no perché Roby Baggio con l'Inter non l'ha vinto Bonucci non l'ha vinto con il Milan anzi è stato uno dei momenti in cui questo forse è interessante giocatori che hanno giocato con tutte e tre le strisciate del nord e hanno vinto con tutte e tre i giocatori o allenatori tra patto non ha vinto Juve ha vinto Juve Inter e Milan però Milano da giocatore il trap come sempre quando vai a vedere i record in Italia di solito il trap quando passo in macchina mi capita raramente però succede da Cusano Milanino vicino vedo le indicazioni penso qui è nato uno dei più grandi uomini di calcio italiani e a proposito tra l'altro la settimana scorsa non siamo andati non da lunedì se n'è andato Gigi Riva il più grande centravanti della storia d'Italia 35 gol di calcio nazionale ancora un record imbattuto più forte di tutti rombo di tuono il soprannome più bello nel nostro cielo un rombo di tuono si se n'è andato se n'è andato Gigi Riva io ho questo aneddoto su Gigi Riva a casa mia il calcio non si segue io sono autodidatta però avevo un nonno che non ho conosciuto se n'è andato quando avevo un anno che era juventino lui era pugliese ti fava Juve e c'aveva la pezza con Gigi Riva perché dice sa usare solo il sinistro me l'ha raccontato mio padre e adoro che nel calcio comunque sai quelle idiosincrasie per cui dici ah no Gigi Riva a stare solo il sinistro quando è evidentemente io non l'ho visto giocare evidentemente il centravanti è più forte di tutti però adoro io pure fischiavo Salah quando giocavo alla Roma dicendo questo è scarso se la difesa si chiude non sa fare niente e allora mi piace pensare che questo nonno che io praticamente non ho conosciuto mi abbia trasmesso questa cosa di rosicare per giocatori fortissimi che fa parte del gioco certo pensa se avesse usato anche il destro era zona pelea a quel punto sì però Riva doveva essere tanta roba da vedere giocare sì poi ti mette da sempre noi non l'abbiamo visto ovviamente giocare però ti mette da sempre un magone incredibile per quella roba lì della Sardegna per aver rappresentato una regione lui Orf comunque è cresciuto dalla storia cioè una storia veramente italiana di un secolo di un'altra epoca e lui ne è uscito il più forte di tutti bellissima bellissima leggenda e il primo marcatore nazionale italiana attivo è Immobile credo sicuramente mi sa di sì e comunque siamo tipo 18 17 siamo lontanissimi nessuno si avvicina mai ai grandi i primi tre sono tipo Riva Piola no Riva Piola Meazza i primi tre non c'è Baggio a 30 no 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 beh Baggio è pari merito con Del Piero tipo guarda vediamo un po' classifica chiudiamo così marcatori nazionali leggendola dal decimo al primo però esatto De Rossi potrebbe essere i primi dieci De Rossi in top 10 potrebbe essere ricordiamo De Rossi Lidl Capello Mourinho in ordine di bravura vi ho appena detti allora vediamo un po' al decimo posto no De Rossi è dodicesimo che ha fatto 21 gol minchia sì so tantissimi tantissimi poi c'è Sandro Mazzola all'undicesimo posto 22 gol al decimo posto c'è Ciccio Graziani con 23 gol madonna al nono posto Bob Bovieri 23 gol quindi pari merito Ricordiamo Bob Bovieri un grandissimo centravanti della Nazione Italiana che ha anche giocato in alcuni club questa è la mia bella bella definizione per Bobbone che tra l'altro ho conosciuto di persona è ha delle dimensioni incommensuali è gigantesco White Lukaku lo chiamiamo così veramente poi c'è all'ottavo posto Spillo Altobelli 25 gol al settimo posto Filippo Inzaghi 25 gol al sesto posto Simone Inzaghi al sesto posto no c'è Adolfo Balonceri che salutiamo infatti vedevo Balonceri chi è che ha giocato nel 97 ah no 1897 nato nel 1897 la maglia rossa giocava con la maglia bianca di Savoia al quinto posto Alessandro Del Piero 27 gol pari merito con Roberto Baggio al terzo posto Piola 30 gol al secondo posto Meazza 33 gol al primo posto Gigi Riva 35 gol ma per caso l'Italia ha una crisi di centravanti che i primi tre sono vabbè se volete convocarmi io sono pronto in questo momento questo era Nicola Falcone non Mario Balotelli ma lui disse poco tempo fa se c'è bisogno sono qui beh questo è un bel gesto Mario l'altro giorno nei rill mi è apparso il gol suo contro la Germania in quello europeo che bel momento fu Mario l'attacco all'Italia era Cassano Balotelli guarda veramente che noi siamo arrivati in finale con quella Spagna con quell'attacco è stato magico sarebbe stato bellissimo sfilare sotto il naso purtroppo erano troppo forti chiudiamo allora proprio con l'ultimissimissima cosa abbiamo parlato della Coppa d'Africa non della Coppa d'Asia hai visto che Mancini è andato via prima della fine della serie dei rigori della sua squadra l'Arabia Saudita non l'avevo visto un gradito perché sta facendo di tutto per andare via perché pare che per quanti soldi ti possano dare vivere in quel mondo in quelle situazioni non è piacevolissimo piacevolissimo qual è la tua cifra per quanto andresti a fare stand up in Arabia Saudita bassissima mille euro al mese vivere in Arabia Saudita vivere e fare aprire il tuo OpenMeek tanti soldi mi sa che non andrei volentieri a vivere in Arabia Saudita ma poi le battute devono essere un piacere da fare sì che comunque non puoi fare improv la fai prima davanti alle persone giuste e poi la puoi rifare veramente tanti soldi perché poi devo pure convincere la mia ragazza no ascolta ma tu non puoi guidare non puoi lavorare non puoi fare niente però io guadagno questa cifra qua e non posso tu non puoi andare a fare la spesa non puoi fare niente guarda come vola sto ferro no guarda veramente mi sembra molto difficile mi sembra molto difficile su questa nota amara su questa nota dolce amara perché chissà Luca forse ci voleva dire che il suo futuro in Arabia Saudita lo scopriremo nella prossima puntata sembra essere Luca Ravenna OpenMeek stenda buu ragazzi se neanche posso fare l'imitazione vostra questa questa residency diventa lunghissima dici di che origine è il tuo cognome origini geografiche guarda dici quella della tua mamma che leggo è come i blue jeans i blue jeans ragazzi è stato un piacere grazie mille Daniele grazie Luca grazie Peroni grazie mille Peroni ci vediamo nella prossima puntata volete sapere quando è seguite il podcast seguite su youtube seguite Luca Ravenna Golla San Daniele Tinti cambia sempre la puntata quindi dovete seguirci per forza ci vediamo ci vediamo presto ciao a tutti ciao 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 ciao